ragazzi buonasera vi ricordo per chi volesse sostenere questo canale lo può fare gratis con un semplice click attivando la campanellina di scrivendosi al canale metto anche il code per la chat whatsapp in questo canale vige una regola l'inter è di tutti gli interisti e chi vuole bene quindi qui non devi pagare abbonamenti non devi mandare prodotti tipici a casa qui puoi entrare tranquillamente nella chat whatsapp degli esonerati scanalizzando il code e fai due chiacchiere con noi che non siamo altro che tifosi come te ma di osa stiamo ragionandovi dai su siamo tutti tifosi dell'inter youtubers di qua quale youtube io non sono youtuber io sono un tifoso come te non lo so dove il cinese o dov'era uno mi ha detto giuse di non lo so dov'era parlando questo video che parlerà prettamente di calcio ma una cosa che secondo me viene sottovalutata o che pure non viene detta soprattutto da chi fa parte del regime di nanchino e che ora va a giro con l'estintore è una cosa vecchia quella dei construction bank è una cosa vecchia sì è una cosa vecchia ma la condanna ora è esecutiva anche in italia quindi deve stare attento perché se se viene in italia gli sfilano anche l'orologio a maratona gli tolzono l'orecchino e a lui gli sfila l'orologio i redditori quindi non è non è uguale ora c'è la sentenza definitiva che in italia quindi dove i creditori sono affamati addirittura vogliono che l'inter a parlare di queste cose mi sale la pressione a 200.000 vogliono che comunque l'inter gli dia uno stipendio per poterci attaccare allo stipendio c'è presidente dell'inter mamma mia mamma mia pensiamo a tutti in basso a parte questo c'è un segnale devo far veloce perché ho pochissima voce c'è un segnale che vi deve far pensare i 320 milioni che lui dice la firma non era mia si era tua non era mia insomma è stato condannato li deve ripagare hanno detto quella firma era sua perché lui diceva quella firma non l'aveva messa lui su quel prestito sono 320 milioni fino a poco tempo fa ancora non lo so non è tanto chiara la situazione eh parlo del del ruolo del padre di Zhang che fino a qualche mese fa era consigliere di Xi Jinping siccome è ora non è tantissimo chiara la situazione ti voglio dire una cosa mettendo in stand by la situazione del padre di Zhang che comunque faceva parte del governo cinese il fatto che quello che non dicono i fuoriclasse eh facente parte del regime di nanchino lo posso capire ma altri giornalisti altre persone secondo me in gamba io stimo mi sembra strano che non abbiano detto questa cosa e che la debba dire un tifoso la poltrona come me il fatto che di fronte ad un prestito seguimi contestato di 320 milioni dove lui è stato condannato in Italia in Cina anche in America ok il governo cioè non è stato consentito a nessuno di dargli una mano cioè nessuno gli ha dato una mano indipendentemente dal ruolo del padre fino a qualche mese fa era consigliere di Xi Jinping quindi magari io non lo so se ancora il padre come ho detto prima è consigliere ma possibile che questo ragazzo gli ha dato una mano a nessuno del padre nel governo è stato lasciato solo abbandonato e lo hanno fatto condannare quindi te lo puoi immaginare di che cosa gliene frega dell'Inter a questi qui se non gli hanno dato una mano per una roba del genere e secondo qualche fuorilasse facente parte della setta di nanchino lo aiutano per prendere un prestito questa è una cosa ti deve far ragionare lo hanno lasciato solo lo hanno fatto condannare non gli ha dato una mano nessuno altro che il governo cinese che dà una mano per l'Inter non gli ha dato una mano per una roba gravissima poi da lì nascono tutte le novelle lo stanno rieducando come Jack Ma è finito in galera gli hanno tolto il passaporto io mi dissocio non lo so che fine ha fatto non lo so dove i cinese ma quante ne stanno dicendo e a livello di immagine l'Inter quanto ci sta rimettendo ragazzi è palese che abbiano le mani legate non possano fare nulla pensa cosa gliene frega dell'Inter a questi qui bisogna affrontarla la realtà è inutile tu mi metti la polvere sotto il tappeto perché poi la polvere te lo fa gonfiare il tappeto mi apisci quella non si apisce di questa proprietà fantasma e di come abbia fatto ad arrivare fino ad oggi e quella non si riesce a capire e che anche noi non siamo riusciti a capire non sto parlando delle scatole cinesi perché poi qualcuno può dire vabbè ma lui ha messo in sicurezza l'Inter perché ora c'ha tutti i creditori alle spalle no lui ha messo in sicurezza se stesso e i suoi beni è diverso lui non si fa attaccare i suoi beni dichiarandosi anche nulla tenente non è che ha fatto le scatole cinesi per mettere in sicurezza l'Inter l'Inter è un bene suo per quello ha fatto tutto quel castello diversa cosa parliamo un po' di cancio si sta parlando di un difensore che a me piace tantissimo che è un animale chiamato soprannominato De Monster che è chi ma che lì poi bisogna capire con quali soldi lo vai a prendere perché ha un ingaggio importante di 7 milioni ma è un cacciatore che potenzialmente può stare tranquillamente al centro della difesa al posto di Acerbi Acerbi già dal prossimo anno per come la vedo io deve essere dosato oppure preservato come un panda deve essere centellinato come faceva la Juve con Chiellini se ti ricordi perché è un giocatore 36 37 anni eh io non sapevo nulla del rinnovo di Acerbi sono sincero ma ha rinnovato per due anni ma l'ultimo anno da quello che dicono è scritto anche un altro anno ma possono rescindere in maniera molto blanda è una roba bilaterale da tutte e due le parti quindi c'è un anno sicuro più un altro staremo a vedere ecco su Kim cosa ti posso dire che ha sempre giocato a quattro che a Napoli era veramente un mostro gli ho visto fare delle partite mostruose ma a me piace tantissimo ha dei piedi educati non hai piedi di De Vrij per esempio ma hai piedi molto ma molto eh educati ed ha un ottimo posizionamento quindi è un degno sostituto secondo me di Acerbi può fare tranquillamente il titolare il titolare all'Inter quest'anno al Bayern Monaco Tuchel non gioca è stato messo da parte ma è anche vero il Bayern Monaco sta diventando un po' come il Manchester United stanno bruciando tanti giocatori è anche vero però che poi dopo alla fine eh lato vittoria un po' come il Paris Saint Germain in Francia il campionato lo vincano sempre loro perché fanno campagna acquisti e altri non fanno quindi di Osa stai ragionando però Kim ragazzi eh è un bel giocatore a me piace tanto vediamo se riescono a prenderlo sicuramente con questa proprietà se non ne vendi otto Kim non lo prendi vediamo se il Bayern ce lo dà in prestito non ho obbligo perché comunque il giocatore non so quanto l'ha pagato mi sembra 50 milioni 40 50 milioni a 26 27 anni se ti va bene lo paghi 30 milioni Kim comunque vediamo a me piace non l'avete chiesto in tanti giuse giuse Kim è forte te lo dico io vai tranquillo come è forte buongiorno ora ha sbagliato quella partita del nazionale buongiorno con Spalletti spesso è fuori ruolo perché buongiorno è un braccetto sinistro buongiorno è ottimo per la difesa a tre perfetto per Izzagli non per la difesa a quattro che se lo esponi a campo aperto in certe situazioni dura fatica è un grande braccetto di sinistra buongiorno ti potresti fare buongiorno a sinistra Kim centrale Pavard a destra cosa te lo dico a fare tre ruoli perfetti per tre giocatori che adorano giocare in quel ruolo lì quindi Marotta dice fra due anni smette si sapeva io non me l'aspettavo dice che va a lavorare con i giovani ma anche Marotta ormai ha un'età e sono ci avrà 50 anni di calcio è giusto che anche lui va dal parco con i nipoti e che si diverta magari con i giovani si diverte è una cosa più stimolante perché capisco che poi gli ultimi anni per Marotta siano stati molto faticosi all'Inter perché caro Beppe qui non siamo alla Juve l'hai visto no? Te ne sei accorto che qui sei stato abbandonato totalmente eh io vi devo fare i complimenti perché se non era per voi col cavolo arrivava la seconda stella perché se la seconda stella arriva il dovanta per cento in merito della diligenza e molti tifosi dell'Inter molti tifosi dell'Inter che dicono che a Cerbi va allontanato per immagine perché sto sentendo di tutto se ha sbagliato deve pagare ma molti tifosi dell'Inter che dicono no a Cerbi bisogna allontanarlo per immagine bisogna tutelarci sono gli stessi che difendono Zange perché Zange a Cerbi va allontanato senza nemmeno sapere ancora cosa è successo mentre Zange va difeso perché ci sta facendo fare delle bellissime figure intorno al mondo vero quindi a questa cosa qui se lo trovo guarda a questa roba qui se lo trovo siccome ci sta facendo fare delle belle figure intorno al mondo Zange va difeso e a Cerbi va allontanato e mi vende a dire questo first reaction shock shock because in our mind everything is totally connected with shock ciao ciao Ha, 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 ha.